in questi giorni. Presidente, è lungi da noi infilarci nella sua privacy. Bravo. Ma come sta? Quanto le è costato oggi? Sto bene, sto molto bene, faccio il mio lavoro come sempre. Presidente, se mi sento se mi spesi su questo, se posso, c'è tanto la parte politica di cui c'è il fuoco. No, guardi, non c'è una parte politica, non so cosa a lei, non sia chiaro del non voglio più parlare di questo, quindi non c'è una parte politica. Grazie.